Allora, sono mezzanotte e dieci minuti, siamo già entrati in martedì 22 luglio 2008, mezzanotte e dieci minuti sono all'incrocio della E6 con un'altra strada, come si può vedere non c'è nessuno, non c'è anima viva, mezzanotte e dieci però come vedete c'è un sacco di luce. Ecco, questa è la E6 che va verso Cirkenes dove devo andare, io a questo punto non so cosa devo fare, se trovarmi un posto per dormire qua accampato in qualche modo o incamminarmi, boh, ora cerco ispirazione.